Noi giovani facciamo doppia fatica a tenere saldi i nostri principi in un'epoca che distrugge tutti gli ideali, in cui gli uomini mostrano il loro lato peggiore e si dubita della verità, della giustizia e dell'esistenza di Dio. È davvero un miracolo che io non abbia perso tutte le speranze, perché sembrano assurde e irrealizzabili. Eppure le conservo, nonostante tutto, perché credo nell'intima bontà dell'uomo. Non posso costruire tutto sulla morte, sulla miseria e sul caos.